Musica Cari amici, il tempo previsto per venerdì 2 ottobre alle spalle ha delle importanti premesse. Vediamo quali. Il transito di una goccia fredda, definita anche come un isolato vortice di bassa pressione colmo di aria fredda, in questo caso proveniente dalla Russia, favorisce sul territorio nuove correnti più umide in arrivo dai quadranti meridionali. Di conseguenza ci attende una maggiore nuvolosità e qualche occasionale pioggia, associate però ad una graduale ripresa delle temperature, soprattutto sui valori minimi. Le previsioni per il Vicentino dicono che nella notte di mattinata le condizioni atmosferiche saranno improntate alla variabilità, a tratti spiccata, con prevalenza di annuvolamenti e con qualche sporadica precipitazione. Nel pomeriggio non avremo variazioni significative, prevarrà un cielo da parzialmente a molto nuvoloso con occasioni per piogge, ancora una volta sparse e di modesta entità. In serate le nubi avranno ancora la meglio. Il cielo risulterà coperto su tutto il territorio con la probabilità di piogge, seppur deboli e sporadiche. Passando alla ventilazione segnaliamo venti generalmente deboli dai quadranti orientali. Le temperature, infine, come suggerito dalla grafica, aumenteranno leggermente sui valori minimi e caleranno invece in quelli massimi diurni. Anche per oggi è tutto, grazie dell'ascolto e appuntamento a domani.